Estra vince il premio Industria Felix su 143.000 bilanci esaminati assegnato alle imprese di Abruzzo, Lazio e Toscana che si distinguono per affidabilità nella gestione finanziaria. Sono oltre 6.400 gli alunni delle primarie delle regioni Marche, Toscana e Umbria iscritti alla quarta edizione di Roar Risparmia, Ricicla, Ruggisci, il progetto di educazione ambientale di Estra, Estralicute Teatro. Estra sponsorizza Lights Camera Revolution, un ciclo di interviste di Michele Dalai a 10 noti personaggi italiani in onda in esclusiva su Discovery Plus, la nuova piattaforma streaming di Discovery. Estra apre uno sportello dedicato agli eco bonus al 110% negli uffici comunali di Callenzano, fino al 23 aprile ogni venerdì dalle 9 alle 12 informazioni, assistenza e risposte sugli incentivi per l'efficientamento energetico. Grazie.